Di più breve, il nostro indice ha una caratteristica, se uno osserva il grafico dal 2008 ad oggi, è un indice che si muove di congestione in congestione, passa da una fase di congestione a un'altra fase di congestione a un'altra fase di congestione. Oggi ha rotto a ribasso una fase di congestione stretta su quelli che erano i massimi di periodo e adesso probabilmente non farà altro che andare a toccare quella che era la vecchia zona di congestione, quindi io mi aspetto un ritorno verso area 20.200 punti, 20.450, magari già domani, però nelle sussute successive. A livello di resistenza a me piacciono molto i massimi settimanali, i massimi mensili per l'operatività, quindi qui siamo a cavallo di 22.275 punti, quindi i livelli chiave secondo me sono area 20.200, 20.450 circa come area di supporto e 22.275 come area di resistenza.